...le notti di milioni di persone. Matteo Ferroni. Allora, quando sono andata per la prima volta in Mali, perché questo progetto è stato fatto in Mali per creare una luce, ho iniziato a disegnare la luce, perché penso che l'oggetto deve contenere la vita e il lavoro. Possiamo passare alla prossima. Io ho preso la mia bicicletta, sono andato da un soldatore, e sono andato da un soldatore, e sono andato da uno che fa le radie. E ho creato uno strumento per illuminare. Questo è la struttura di lavoro che possiamo fare dappertutto in Mali, perché non abbiamo bisogno di formazione, non abbiamo bisogno di fabbriche. abbiamo bisogno solo di collegarci con gli astigiani giusti, proprio per poterli far lavorare. e questo era la vita del villaggio. In questa immagine, vedete che c'è tutto, c'è la comunità, c'è la forza del gruppo, c'è la capacità di poter collegare, magari orizzontale attraverso il lavoro collettivo, e un collegamento verticale attraverso il trasferimento di conoscenze tra nonne, madri e figli. E questo avviene quando si lavora in gruppo. Ma che succede la notte? Possiamo in qualche modo abbassare le luci, per favore? Di notte l'esperienza diventa sensoriale, perché in qualche modo uno comincia a vedere la luna, e si comincia a avere la possibilità di leggere, per esempio le luci delle fiamme, che vengono portate alle persone. E quindi queste fiamme, che vengono portate alle persone. E poi ci abbiamo... come si chiamano le fiamme? Vedete, queste sono le luci. E questa immagine è stata così potente che per aggiungere un dispositivo tra la luna e la fiamme, cercando di aggiungere una luce tra questa e la luna. Aggiungere come una poesia. E ci è voluto un anno. Allora, questo è l'albero della luce. Cioè, trasformare l'ombra dell'albero nelle luci. Ah, nella luce. Potete vedere queste... E c'è l'ombra dell'albero, dove le persone si riuniscono in gruppi. che si è riunita intorno a questo albero. E poi... vediamo come condividono la luce. Questa luce appartiene a tutta la comunità e può essere condivisa. e ci sono anche dei significati funzionali. Però la cosa più importante è stata il significato simbolico. Per esempio, viene utilizzata nella moschea per pregare. Abbiamo questa bolla di luce e poi circondata dall'oscurità. Per me, bisogna proteggere l'oscurità. Non bisogna illuminare tutto. Perché l'oscurità è importante. Tanto importante quanto la luce e proteggere l'oscurità è un traguardo. E questo può essere fatto. Quando passiamo alla parte funzionale, vedete che questo è uno strumento che le persone usano per lavorare. per esempio, questo è il veterinario che ha portato la lampada per fare la lampada per poter lavorare e per iniettare l'antibiotico per vaccinare i polli. E questo è un dispositivo per le persone. Non è solo un dispositivo che toucha l'umanità, il corpo. E penso che questa è quando la tecnologia e questa è la tecnologia quando si può utilizzare questo strumento per fondere cultura e natura. E questo, per esempio, è la lampada per l'insegnante. e l'insegnante può utilizzare questa lampada per la scuola per far sì che gli studenti possano fare loro compiti. E questa è la scuola coranica. e... è la scuola coranica. Grazie mille. Grazie mille. Quanti villaggi già avete eliminato? 15. Quanti ne mancano ancora 50? Quanti soldi servono? Quanti soldi ti servono? Ho deciso. Per il progetto? Credo 20.000 euro. 20.000 euro. Quindi nulla. È molto facile. Bene. Grazie mille. Buona fortuna. Grazie mille.